Si può fare, Gianni. E ce l'ha. No, no, no. No, Pier, per favore, no. E' pericoloso, non ce la faccio. Gianni, si può fare. Non ce la faccio. Tengo un mezzo manager. Tengo un mezzo manager, possiamo ricominciare. Prima che affonda tutto, Gianni. C'è cosa? Non è il quel che volevi. Si può fare, Gianni. Uno, due, tre.